ragazzi allora oggi è il mio... silenzio, basta da te no, non mi sento, ma cosa stai facendo voi dietro? tutto sto casino, no, non mi era accorta che non mi stai dietro di me perché oggi è il mio ultimo giorno qui in palestra no, 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 no ne vado, basta, sono stufa, sono stanca di voi no, no, no non riesco più a allenarmi e mi continuate a, non lo so, a guardare siamo concentrati va bene, allora, facciamo una foto a ricordo come un giorno di scuola mi metto così facciamo una cosa da potermi è un po' a doppio bicicletta